Action dal vostro Morissan, buongiorno, eccoci alla seconda parte del video che vi avevamo promesso. Bene, abbiamo realizzato quest'audio per voi e niente. In questo video leggiamo insieme la seconda parte dell'articolo titolato Chi è davvero Francesco I, il nuovo Papa? Scritto da Ayati Varotto e pubblicato sul portale destativi.org. Dopo avervi descritto nei dettagli il movimento gesuita e il giuramento di induzione, in questo secondo video indagiamo i legami tra massoneria, gesuiti e illuminati per capire come tutto sia connesso ai massimi livelli con l'obiettivo di realizzare il nuovo ordine mondiale. Buon ascolto dal vostro Morissan. Ma veniamo al ruolo avuto dai gesuiti nella massoneria e alla loro presenza in essa. I gesuiti hanno avuto un ruolo nella creazione del rito scozzese antico ed accettato, infatti in una lettera del massone Charles Oteran, che aveva ottenuto tanti gradi nella massoneria da poter essere considerato un'autorità in materia, indirizzata al New York Press Club datata 11 gennaio 1877, si legge. È anche curioso notare che la maggior parte di questi enti, come l'antico ed accettato rito scozzese, il rito di Avignone, l'ordine del Tempio, il rito di Flesser, il grande consiglio degli imperatori di Oriente e di Occidente, i principi sovrani massoni, eccetera, sono quasi tutti frutto dei figli di Ignazio di Loyola. Il barone Hund, il cavaliere Ramsey, Shudi, Zinnendorf e numerosi altri che fondarono i gradi in questi riti operarono dietro istruzioni del generale dei gesuiti. Il nido in cui questi gradi vennero covati e nessun rito massonico immune dalla sua funesta influenza, è stato il collegio gesuitico di Clermont a Parigi. Il trovatello bastardo della massoneria, l'antico e accettato rito scozzese che non è riconosciuto dalle logge azzurre, fu anzitutto l'enunciato del cervello del gesuita Cavaliere Ramsey. Fu portato da lui in Inghilterra nel 1736 per sostenere la causa dei cattolici Stuart. Nella sua forma attuale di 33 gradi, il rito è stato riorganizzato alla fine del XVIII secolo da una mezza dozzina di avventurieri massoni a Charleston, nella Carolina del Sud. Quanto il gesuitismo sia pieno di massoni lo conferma Alberto Rivera, ex gesuita convertitosi a Cristo, quando dice, più in alto andavo nell'ordine gesuita e più corruzione vedevo all'interno dell'istituzione. Fu invitato dai gesuiti di alto grado a partecipare ad una messa nera segreta in un monastero nella parte nord della Spagna. Quando mi inginocchiai per baciare l'anello di un alto ufficiale, vedi un simbolo su quell'anello che mi fece diventare il sangue freddo. Era un simbolo massonico. Una cosa che odiavo e che mi era stato detto di combattere. Scoprì che il generale gesuita era anche un massone e un membro del partito comunista e Spagna. A conferma di quanto stretti sia nei legami tra massoneria e gesuiti c'è la dichiarazione di Giuliano Di Bernardo, ex gran maestro del Grande Oriente d'Italia, che alla domanda del giornalista Ferruccio Pinotti se esistono veramente delle contiguità o delle concordanze tra gesuiti e massoneria, ha risposto così. Le concordanze ci sono sempre, al vertice. A un certo livello ci sono sempre state, segretamente. Quando si parla di questo filo segreto si parla di un dialogo sottile, profondo, che esiste tra persone di qualità. Sono queste convergenze a evitare, in caso di crisi o conflitti, i danni maggiori, le situazioni irreparabili. È chiaro che, alla base di la piramide, troviamo il prete e il massone che si comportano come Don Camillo e Peppone, ma i vertici, poiché sono vertici illuminati, si toccano sempre. Dunque, gli stretti rapporti tra massoneria e gesuiti sono provati. Ad avvalorare poi tutto ciò c'è anche la testimonianza dell'ex gesuita Gerard Buffard. Infatti, in un articolo di Greg Zimanski, del 2006, a cui l'ex vescovo gesuita Gerard Buffard, ora pastore di una chiesa in Canada, ha rilasciato una interessante intervista, leggiamo alcune cose molto interessanti dette da questo ex gesuita a proposito del rapporto tra gesuiti e massoneria illuminati. L'ex vescovo Gerard Buffard del Guatemala ha affermato che il Vaticano è il reale controllore spirituale degli illuminati e del nuovo ordine mondiale, mentre i gesuiti, tramite il Papa Nero, il generale padre Peter Hans Kolbenbach, controllano effettivamente la gerarchia vaticana e la chiesa cattolica romana. Il vescovo Buffard, che ha lasciato la chiesa ed ora un cristiano nato di nuovo che vive in Canada, ha fondato la sua conclusione dopo aver lavorato sei anni come sacerdote in Vaticano, incaricato del compito di trasmettere la corrispondenza giornaliere e sensibile tra il Papa ed i dirigenti dell'Ordine dei Gesuiti, che risiedono in Borgo Santo Spirito numero 5, vicino piazza San Pietro. Sì, l'uomo conosciuto come il Papa Nero controlla tutte le più importanti decisioni prese dal Papa ed egli a sua volta controlla gli illuminati, ha dichiarato il vescovo Buffard la settimana scorsa nel corso del programma radiofonico di Greg Simansky, il giornale investigativo, a www.gcnlive.com, dove gli articoli delle sensazionali dichiarazioni possono essere ascoltati nella loro interezza. So che questo è vero, dato che ho lavorato per anni in Vaticano e ho viaggiato con Papa Giovanni Paolo II. Il Papa prende i suoi ordini di marcia dal Papa Nero, mentre i Gesuiti sono anche i leaders del nuovo ordine mondiale, con il compito di infiltrarsi nelle altre religioni e nei governi del mondo, allo scopo di realizzare un governo mondiale unico fascista ed una religione mondiale unica basata sul satanismo e sul lucifero. Le persone non possono immaginare quanto male e quanta distruzione i Gesuiti hanno causato e causeranno, mentre nello stesso tempo usano la perfetta copertura di nascondersi dietro tuniche nere e di professare di essere uomini di Dio. La conoscenza di prima mano da parte del vescovo Buffard del male, che si cela all'interno della gerarchia del Vaticano e particolarmente nell'ordine dei Gesuiti, conferma la testimonianza di altri ricercatori, compreso Bill Hugg, autore degli sconvolgenti libri Il nemico smascherato e di terroristi segreti, come pure il preminente ricercatore sull'ordine dei Gesuiti, Eric John Phelps, autore di Assassini Vaticani. Oltre a dipingere un ritratto scuro del Papa Nero in Roma, il vescovo Buffard sostiene che il potere malefico dei Gesuiti si estende in tutto il mondo, inclusa una solida infiltrazione nel governo USA, nel Consiglio per le relazioni con l'estero e nelle più importanti organizzazioni religiose. Il vescovo Buffard sostiene che i Gesuiti agiscono come perfetti camaleonti, assumendo l'identità di protestanti, mormoni, battisti e giudei, con l'intenzione di causare il tracollo degli USA, così come di portare la nazione sotto una religione mondiale unica, fondata in Gerusalemme e sotto il controllo del loro leader, Lucifero. Io so di prima mano che il Vaticano controlla e monitora ogni cosa in Israele, con l'intenzione di distruggere i giudei, ha affermato il vescovo Buffard, aggiungendo che il vero proposito dell'ordine dei Gesuiti è quello di orchestrare e controllare tutti i leader del mondo, allo scopo di provocare un gran conflitto mondiale che alla fine distruggerà gli USA, il Medio Oriente ed Israele. Essi distruggono ogni cosa dall'interno e vogliono provocare la distruzione pure della stessa Chiesa Cattolica, allo scopo di dare inizio ad una religione mondiale unica basata sul satanismo. Ciò si vede anche nel modo in cui i sacerdoti adorano durante la Messa, in effetti adorando i morti. Inoltre, segni di satanismo si vedono in molti simboli esteriori, usanze e paramenti esibiti dalla Chiesa. Dopo aver prestato servizio in Roma, il Vescovo Buffar passò del tempo in Africa ed in Guatemala, salendo ad una posizione di potere all'interno della Chiesa. Comunque, insieme a questo potere religioso, sopravvenne l'affiliazione e l'appartenenza come frammassone e divenne membro massonico del 37esimo grado, un qualcosa in apparenza disapprovato nella Chiesa Cattolica romana, dal momento che, secondo il diritto canonico, l'appartenenza ad una loggia massonica comporta l'immediata scomunica. Secondo il Vescovo Buffar, la frammassoneria viene usata dalla Chiesa per adempere i suoi piani segreti, dato che molti altri sacerdoti di alto livello, Vescovi, Cardinali e persino Papi, si sono uniti a società segrete insieme ad altre imposizioni di potere, in altre religioni e governi, molti lavorando insieme per promuovere la malvagia agenda degli Illuminati. E le sue dichiarazioni avvalorarono i rapporti che affiorarono sui giornali francesi e italiani nei primi anni Ottanta, che riportarono più di 150 sacerdoti di alto rango iscritti alla frammassoneria, compresa la loggia massonica P2 e ad altre società segrete. Alla fine sono nato di nuovo e ho denunciato la Chiesa Cattolica, affermato il Vescovo Buffar, che ora è un cristiano praticante e segue la parola di Dio tramite la Bibbia. Dobbiamo sempre pregare per i nostri dirigenti, denunciando apertamente il male e smascherando i gesuiti per quello che realmente sono. Dopo aver lasciato la Chiesa, il Vescovo Buffar fece anche ammenda e chiese perdono al defunto ex sacerdote gesuita, padre Alberto Rivera. Padre Rivera fu uno dei pochi sacerdoti gesuiti con il coraggio di smascherare le intenzioni malvagie della società di Gesù, venendo avanti dicendo in che modo lavorasse come uno degli infiltrati dell'ordine dei gesuiti in USA, con il compito di penetrare nelle chiese protestanti e battiste con l'intento di distruggerle dall'interno. Quando ero vescovo ed ancora fedele alla Chiesa, una volta scrissi una lettera, denunciandolo padre Rivera e patrocinando la sua morte, ha dichiarato il Vescovo Buffar. Quando compresi la verità, cercai padre Rivera e chiesi il suo perdono. Diventammo buoni amici e io so che diceva la verità. Era un uomo onesto che trovò anche lui Dio. Io so che i gesuiti hanno cercato di alterare la verità, affermando che egli non era mai stato un sacerdote e distruggendo ogni prova che avvalorasse ciò. Hanno cercato di fare lo stesso a me, ma padre Rivera proclamava la verità senza dubbi. So questo per certo e sono stato anche con lui alcune settimane prima della sua morte. Soffriva terribilmente ed è poi essere stato avvelenato con acido. Come ho già detto, non potete immaginare la sofferenza e la distruzione che sono state causate e saranno causate dai gesuiti. E termino con quello che ha detto un altro ex gesuita, Martin Malachi, eminente teologo e professore presso il Pontificio Istituto Biblico, intimo amico di Paolo VI e segretario del Cardinal Bea. Egli sostenne che un gruppo di massoni illuminati fatto di plutocrati occidentali chiamato l'Assemblea o la Superforza si era infiltrato ai più alti livelli dell'amministrazione vaticana e stava lavorando per realizzare un nuovo ordine mondiale. D'altronde la Chiesa cattolica romana è un'organizzazione enorme, che ha circa un miliardo di membri sparsi in tutto il mondo, che esercita un'enorme influenza geopolitica nel mondo intero e quindi gli illuminati non potevano non cercare di infiltrarsi in essa, per portare a compimento il loro progetto. Ecco le risposte date da Martin Malachi a John McManus in una intervista fattagli per The New American. McManus. Il tuo libro sostiene che influenze sovversive nelle più alte posizioni clericali della Chiesa stanno lavorando per introdurla nel nuovo ordine mondiale. Che cosa intendi per nuovo ordine mondiale? Martin. Nella sua forma completamente progettata, i governi del mondo saranno diretti da quelli che sono ascesi al punto culminante. McManus. Che cosa intendi per il punto culminante? Martin. La forza sottostante di cui ho scritto in Wineswept House è strutturata in maniera molto simile ad una piramide. È larga nella parte inferiore dove molti individui operano per i suoi obiettivi e sperano di essere elevate ad un posto più elevato. Ci sono sempre meno abitanti in ognuno dei gradini ascendenti nella struttura. Solo molto pochi formano il suo finale consiglio di amministrazione, il punto culminante della piramide. Questa descrizione fatta da Martin Malachi, come potete vedere, non è altro che la struttura piramidale degli illuminati, il cui simbolo, appunto quello di una piramide, si può vedere sulla banconota del dollaro americano. Ma Malachi Martin conferma anche l'esistenza in Vaticano del satanismo, che gli illuminati vogliono instaurare nel nuovo ordine mondiale. Infatti nel suo libro The Kiss of This Blood sostiene che Giovanni Paolo II era andato contro la irremovibile presenza di una forza maligna nel suo Vaticano e nelle cancellerie di certi vescovi. Era quella che gli uomini di chiesa ben informati chiamavano la superforza. Voci di corridoio, sempre difficili da verificare, legavano la sua installazione all'inizio del regno di Papa Paolo VI nel 1963, la cosiddetta intronizzazione di Satana. In effetti Paolo aveva l'uso occupamente al fumo di Satana che era entrato nel santuario, un riferimento indiretto ad una cerimonia di intronizzazione fatta dai satanisti in Vaticano. Quella cerimonia di intronizzazione, secondo Martin, avvenne in Vaticano il 29 giugno 1963 e contemporaneamente se ne tenne un'altra parallela negli Stati Uniti, nella città di Charleston, nella Carolina del Sud. Perché proprio questa città? Perché a Charleston nel 1801 fu fondato il primo supremo consiglio madre del mondo del rito scozzese antico ed accettato, che come sappiamo promuove il culto di Satana. Nella sopracitata intervista Martin conferma l'accaduto, infatti leggiamo. McManus. Il tuo libro comincia con una descrizione vivida di una sacrilega messa nera tenutasi nel 1963 a Charleston, nella Carolina del Sud. Accadde veramente ciò? Martin. Sì, accadde veramente. E anche la partecipazione via telefono di alcuni altri ufficiali della Chiesa nel Vaticano è un fatto, cioè è vera. La donna che fu costretta ad essere parte di questo rituale satanico è piena di vita e felicemente è riuscita a sposarsi e a condurre una vita normale. Ella ha fornito dei dettagli su quell'evento. McManus. Inoltre, tu descrivi numerosi altri cardinali e vescovi sotto una luce molto brutta. Sono basate su dei fatti queste caratterizzazioni? Martin. Sì, tra i cardinali e la gerarchia ci sono satanisti, omosessuali, antipapisti e cooperatori nella spinta per il governo del mondo. E sempre Martin, nel suo romanzo Winsworth House, racconta quanto segue. Improvvisamente divenne indiscutibile che ora, durante questo papato, l'organizzazione della Chiesa Cattolica Romana portava dentro di sé una permanente presenza di chierici che praticavano il culto di Satana e lo apprezzavano. Di vescovi e preti che si sodomizzavano a vicenda e sodomizzavano bambini. Di suori che praticavano i ritineri della vicca e che vivevano in relazioni lesbiche. Ogni giorno, inclusa la domenica e i giorni santi, atti di eresia e blasfemia erano commessi e permessi ai sacrialtari da uomini che un tempo erano chiamati preti. Atti e riti sacrileghi non solo erano effettuati dinanzi ai sacrialtari, ma avevano la connivenza o almeno il tacito permesso di alcuni cardinali, arcivescovi e vescovi. Il loro numero totale era minoritario, qualcosa come dall'1 al 10% dei consagrati, ma di questa minoranza molti occupavano sorprendentemente alte posizioni orranghi. I fatti che conducevano il Papa ad un nuovo livello di sofferenza erano principalmente due. I sistematici legami organizzativi, la rete in altre parole che era stata stabilita fra alcuni gruppi di chierici omosessuali e covens satanisti, e la disordinata potenza di influenza di questa rete.